Un luogo molto caro ai Bresciani, legato ad un gesto di generosità, è la chiesa della Madonna della Carità, nota anche come chiesa del Buon Pastore. Questo edificio si trova lungo via musei, non lontano da Santa Giulia, dai resti romani, quindi nel pieno centro storico della città. È detta del Buon Pastore perché fino alla fine degli anni 90, del Novecento, è stata legata al vicino monastero del Buon Pastore. La chiesa della Carità nasce all'indomani di un evento terribile per la città di Brescia, il sacco del 1512, perpetrato dalle truppe francesi guidate da Gaston de Foix. La nobile Laura Gambara decise di donare il terreno dove oggi sorge la chiesa e naturalmente dei fondi, proprio per costituire un luogo dove accogliere le donne che vennero violentate, che subirono maltrattamenti in seguito al sacco. E questa prima chiesa cinquecentesca, che nasce a metà del secolo, probabilmente era dedicata a Maria Maddalena. Poi a metà del seicento la chiesa viene rinnovata ed è la struttura che vediamo oggi, realizzata dall'architetto Agostino Avanzo. Si tratta di un edificio molto particolare, anzitutto perché è un edificio pienamente barocco, quindi presenta tutta la ricchezza dello stile barocco, ma temperata da un'eleganza che appunto aiuta a godere ancora di più di questa magnifica bellezza. Un'altra particolarità di questa chiesa è l'essere a forma ottagonale, che da un lato rimanda proprio allo stile barocco, dall'altro ad una valenza simbolica. Il numero otto nella teologia cristiana ha un significato preciso. L'ottavo giorno è il giorno della resurrezione, quindi della vita piena in Cristo. La chiesa della Madonna della Carità di Brescia presenta inoltre al suo interno una riproduzione in scala 1 a 3 della Santa Casa di Loreto. Che cos'è la Santa Casa di Loreto? È la casa della Vergine di Maria, che venne portata dai crociati nel XIII secolo, da Nazareth appunto a Loreto, nelle Marche, ed è oggi una, come allora, come in passato, una meta di pellegrinaggio particolarmente importante per i cristiani. Ed è interessante notare come appunto a Brescia, nella chiesa della Carità ci sia l'unica riproduzione lombarda della Santa Casa di Loreto, un luogo davvero suggestivo. Peraltro la Santa Casa di Loreto che troviamo all'interno della chiesa della Carità è rivestita da uno straordinario apparato decorativo in marmi policromi della famiglia fiorentina dei Corbarelli. E sopra la facciata esterna, che sta comunque dentro la chiesa, si trova un affresco quattrocentesco detto della Madonna dell'Albera, una Madonna miracolosa che era collocata in un'altra zona della città, più o meno all'altezza dell'attuale santuario delle Grazie, quindi vicino all'attuale piazza Garibaldi, e venne trasportata appunto qui per essere custodita all'interno di questo straordinario scrigno barocco.